Era previsto per questa mattina 11 dicembre alle ore 10 il consiglio comunale nella città di Agropoli. Erano 29 i punti all'ordine del giorno tra i quali 26 interrogazioni ma a seguito di una verifica è risultato che la PEC utilizzata dai messi comunali per convocare i componenti della pubblica assise non era pervenuta nei tempi previsti per legge ovvero cinque giorni prima della riunione. A quel punto è stata convocata la conferenza dei capigruppo nel pomeriggio di ieri e si è deciso di fare una nuova convocazione per il giorno 16 dicembre alle ore 16. Si è approfittato anche per raggiungere altri argomenti e compiere la modifica dell'ordine delle interrogazioni secondo il numero di protocollo.